Oh carissimi followers, buongiorno a tutti. Ci troviamo all'Aquila, sempre, e questa è la chiesa con il suo sagrato di Santa Rita, una chiesa costruita negli anni 50 e che ha una pianta ottagonale. Ecco, vediamo l'ingresso, molto moderno, con questo rivestimento tutto in pietra bianca, molto bello. E adesso andiamo anche a vedere, dietro la chiesa, una particolare croce che fu donata da un'associazione del paese di Ischia di Castro, in provincia di Viterbo. Quindi fecero questa croce e la donarono alla città dell'Aquila. Quindi fecero questo gesto molto bello, per cui io per ringraziarli prossimamente andrò a Ischia di Castro e farò qualche video. E allora vediamo la croce che è questa qui. Eccola qui, vado un po' indietro, cercando di non cadere. Voilà. Oh, bene. Quindi, che vediamo su questa croce? Allora, qua c'è il rosone di Collemaggio, con questa frattura che simbolizza il terremoto. Poi abbiamo Benedetto XVI, abbiamo il Cristo in croce, Abbiamo San Gabriele, poi c'è la chiesa di Collemaggio e poi c'è San Massimo, padrono dell'Aquila, che ha la città in mano. Vediamo dietro il campanile, insomma, una chiesa senz'altro interessante per noi aquilani e soprattutto per chi abita a Via Strinella, perché è situata in Via Strinella.